Oggi è il 2 aprile 2020, siamo collegati con Daniela Lucangeli, adesso ci racconterà lei chi è, un po' della sua storia professionale. Mi fa piacere coinvolgere Daniela in questo incontro, in questa serie di video interviste organizzate da Fide Stroke perché è un momento in cui ci sono tante domande lato famiglie, soprattutto lato famiglie che vivono, hanno vissuto in passato e vivono tuttora delle fragilità, quindi famiglie che hanno in casa una persona con disabilità. Soltanto due regole, all'inizio ci diamo del tuo, ma questo direi che è abbastanza facile, la seconda regola è che entrambi siamo consapevoli del ruolo reciproco, quindi io sono un genitore, ne so pochissimo di psicologia, che invece è la tua area di esperienza e di professionalità, per cui io lascerei a te Daniela per una breve introduzione se ci racconti tu qualcosa e poi ti facciamo un po' di domande rispetto a quelli che sappiamo essere i bisogni, la mappatura dei bisogni delle nostre famiglie. Francesca, allora sulla prima regola del darsi del tu mi fa soltanto gioia, sulla seconda condizione di parlarti di me io direi andiamo oltre, cioè io chi sono, che cosa faccio? Io sono talmente tanto esposta attraverso i social e sanno talmente tanto tutti di come la mia vita ad un certo punto abbia avuto la metamorfosi da scienziato a testimone, che non andrei a ripeterlo. Una sola parola è psicologa? Non lo so se ti adopererei quella, quella è una sicuramente condizione di professionalità che direi di più in ricerca, direi di più ricercatore che non uno psicologo vero e proprio, perché quello che faccio io è più studiare le funzioni della mente che non poi essere sul campo in aiuti pratici e questo è sia un bene che un male, perché io aiuto coloro che aiutano a farlo nel migliore dei modi possibili, ecco diciamo così. Va bene, va benissimo come presentazione. Senti, una prima domanda appunto deriva da questa mappatura dei bisogni che abbiamo fatto all'interno del gruppo delle nostre famiglie, proprio all'inizio di questo periodo di lockdown, di reclusione a seguito dell'emergenza Covid-19. Quello che oggi vedono le famiglie, che poi è stato qualcosa che nel tempo, quindi nel tempo anche nel corso di poche settimane, ha mutato molto le emozioni e gli stili di vita familiare, è stato un vedersi trasformare non solo nel loro ruolo di genitori, ma anche nel ruolo di educatori. Quindi prendersi un po', farsi carico di quello che era un ruolo al quale erano stati deputati altre persone, altri portatori di interesse in questa sfida educativa delle nuove generazioni. Su questo, che cosa ci puoi dire? Qualche consiglio, quello che è il tuo punto di vista dall'osservazione che hai fatto tu stessa in queste settimane? Allora, guarda, quello che mi è capitato in queste settimane è imparare ad ascoltare, l'ho detto più volte in questi giorni. Perché? Perché per una serie di coincidenze mi ritrovo ad essere una persona a cui tante persone raccontano il proprio sentire. Quasi più perché io gli faccia da specchio, da riflesso, che non perché io possa dare in qualche modo un contributo o altro, se non il fatto di stare ad ascoltare. Sto ad ascoltare cose che prevalentemente mi vengono scritte. E di qui le domande, perché la gente scrive a me? Che in fondo sono, come ti dicevo prima, una persona che in realtà è un ricercatore, una persona di scienza che poi ad un certo punto decide di raccontare alle persone molte delle vulnerabilità che i bambini incontrano, soprattutto per far capire loro come rendere queste vulnerabilità ostacoli superati e non ostacoli ostacolanti. La sorpresa che mi ha anche frastornato è capire che probabilmente il nostro sistema di vita ci ha portato ad ascoltare pochissimo il linguaggio antico con cui la nostra specie dialoga con se stessa, che è il linguaggio emozionale. Noi è come se come adulti ad un certo punto ci fossimo convinti per lo stile proprio di forma mentale, forma mentis che abbiamo sviluppato, che le emozioni altro non sono che qualcosa di superficiale e che regolamenta gli stati così di, io dico la schiuma delle onde. E questo è un grandissimo bias, errore di ragionamento in cui ci siamo illusi come generazione perché invece le emozioni, quando io lo spiego ai miei studenti, non sono la schiuma delle onde dell'oceano ma sono la forza di movimento dell'oceano. Cioè le emozioni sono veramente le strutture di linguaggio che il nostro radar, il nostro cervello incarnato, perché se io ora muovo le mani è perché il sistema nervoso periferico riceve un'informazione neuroelettrica che pervade tutti i tessuti. Quindi il nostro linguaggio interno è un linguaggio in cui questo radar comunica con tutta la periferia sempre. E qual è stata la prima cosa che ha imparato a dirsi? Ha imparato a dirsi se quello che accadeva gli faceva bene o gli faceva male. E questo linguaggio è iniziato come un impulso emozionale, cioè il cervello antico della nostra specie riconosce le emozioni come il suo linguaggio più certo. Quello che dice ok stai bene così e quindi abbiamo emozioni che ci rasserenano, ci quietano, ci nutrono di benessere e poi invece abbiamo l'altra parte che è l'allerta, come la paura, l'ansia, la preoccupazione che ci dice attento, 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 quello che ti sta accadendo è il rischio per te. Questo linguaggio che si chiama intrapsichico noi l'abbiamo come silenziato, quindi non abbiamo più posto attenzione a ascoltare cosa ci accadeva dentro quando, per esempio, abbiamo un linguaggio che ci parla di paura, di preoccupazione, di disagio, di senso di sconforto. Lo abbiamo come tacitato, ma questo è un linguaggio antico che ha milioni di anni evolutivi, ha memorie che sono memorie di specie, quindi cosa ha fatto in questa sorta di repressione così? ci ha reso dei piloti con la parte cognitiva della mente molto poco capaci di rispondere a dove ci porta la nostra macchina, cioè la nostra vita, la nostra fluire di informazioni interne. Ecco che noi non riusciamo a controllare con la mente la nostra gioia o la nostra ansia. Perché? Perché non è la mente cognitiva, diciamo così, la volontà di controllo e di gestione che possa contenere questi linguaggi così potenti, antichi e funzionali a quasi rispondere ad un obiettivo veramente distribuito che non è soltanto di Daniela o di Francesca, ma che è di tutti gli esseri viventi, che è la ricerca della condizione di protezione profonda, autentica del self, dove per self si intende non soltanto l'io penso, ma si intende la struttura dell'organismo vivente. Che vuol dire questo? E poi concludo, sai Francesca, la paura ci avverte che qualche cosa ci sta mettendo a rischio, non sapendo ascoltarla questa paura, il nostro sistema ce la ripete sempre, ce la rimanda sempre, quindi noi è come se fossimo ingorgati di paura, che allora diventa ansia, che poi diventa angoscia e poi ci possiede. E perché ci possiede? Perché ci continua ad avvertire che quel sistema lì ci sta mettendo a rischio e il rischio non è solo fisico, ecco perché parlavo del self, ma è anche proprio di equilibrio mentale. Riassunto, come vedo io questo presente? È un presente in cui questo linguaggio comincia a fare da padrone, a far sentire che non stiamo un granché in equilibrio sulle onde di questo nostro profondo oceano emozionale, né come adulti né riusciamo ad accompagnare i nostri figli alla regolazione di questo linguaggio, proprio come quando regoliamo il volume di una musica che per quanto sia magari la più bella che amiamo, ci diventa insopportabile quando supera certe soglie. Così è in fondo per la nostra vita, se non sappiamo regolare questi linguaggi emozionali profondi, anche l'amore per i nostri figli o per i nostri amici, per i nostri compagni, per le nostre compagne, possono diventare, facciamo questa metafora del volume che lo fa capire meglio, quasi una condizione che ci tiene in alert, invece che in fluire meraviglioso e partecipato di questa fase della vita. Ma infatti io mi ritrovo molto su quello che dici, sia per i linguaggi che ascoltiamo in questo periodo. Ti cito la prima voce di questo sondaggio in cui si chiedeva, ma tu di che cosa hai bisogno? Le persone rispondono, le famiglie rispondono, in principal modo le mamme, perché è il genitore caregiver principale delle nostre famiglie. Sono preoccupata nel caso dovesse succedere qualcosa a me o a mio figlio e chi potrebbe curarsi di noi. Quindi paradossalmente rispetto a quello che dicevi tu, forse il livello di alert delle famiglie che sono già passate attraverso un trauma è il livello di alert, certo, su una soglia sempre abbastanza elevata, però con una capacità ancora di ascolto di quelle emozioni che invece ci fanno progredire. E questo è quello che io prima avrei voluto raccontare come la potenza dell'esperienza appresa. Cioè quando si passa attraverso un dolore e una vulnerabilità superata, si apprende a transitare le condizioni che ci rendono fragili sapendo che è proprio attraversandole che ci si rafforza. Poi non è detto che tutti ci debbano passare per sperimentarla. No, io ieri citavo questa preghiera laica di Schopenhauer, quindi un filosofo sicuramente non della speranza, ma in cui lui diceva che forse la preghiera più bella che c'era era quella in cui nelle feste indiane si chiedeva alla fine della festa che tutti gli esseri viventi possano restare liberi dal dolore. E io mi sono permessa di aggiungere dal dolore inutile, quello che non insegna ad andare di là dell'ostacolo. Perché il dolore, così come la paura, così come l'ansia, così come l'angoscia, cosa sono? Se posso permettermi di dirvi questa parte che proprio da madre mi viene da dire. Fate con me questo piccolo esperimento in questo momento, così capite che cos'è il dolore, perché il nostro cervello lo percepisce. Datevi un pizzicotto per esempio qui sull'orecchio, e poi su un ginocchio, e poi su un piede. Se io vi domando chi sente dolore, ecco voi mi direte subito ma che domanda fai? Certo che lo sento io il dolore. Cioè il dolore è l'informazione che la periferia, per esempio in questo caso la periferia del nostro corpo, rimanda alla centralina per dire che c'è qualcosa che la sta attaccando. Questo chiede uno sforzo alla centralina di sopportare quell'informazione per decidere che soluzione prendere in maniera da non doverne essere più colpita. Cioè il dolore, così quello che passa attraverso soprattutto il dolore nostro personale e di coloro che noi amiamo, è come se ci stesse dando la possibilità di superarci perché informati da questa esperienza ne facciamo tesoro per sapere prevenire condizioni che ci metterebbero ulteriormente a rischio. Riassunto, è facile dirlo a parole. Io sono diventata quasi brava a dirlo a parole, tanto mi sto impegnando a farlo capire. Ma non sono parole. Nel nostro essere un organismo vivente abbiamo memorie che ci consentono proprio attraverso l'esperienza del dolore di prendere quella che si chiama la funzione di prospettiva, cioè le decisioni per il futuro. Io per dirti sto insegnandolo ai bambini via web così, tutte le cose che oggi ti stanno facendo stare male, scrivile per poi mettere a fianco cosa domani dovrai fare perché queste accadano sempre meno, sempre meno, sempre meno. Se ti fa star male stare senza il tuo migliore amico o compagno di banco, allora scriviti come quando sarai a fianco a lui potrai smettere tutta quella serie di dispetti inutili che vi allontanano invece che avvicinavi e così via. È un modo, non direi semplice, ma essenziale di aiutare i nostri piccoli a trasformare questa esperienza di dolore e di fatica in una prospettiva di cambiamento di quello che prima era forse ciò che ci rendeva meno capaci di godere del presente. Quindi è un'opportunità in fin dei conti di scremare, di togliere qualcosa che era superfluo. Su questo c'è un tema che tu citi spesso un po' anche riguardo al tuo ruolo all'interno del CNIS, quindi di quello che chiamavo proprio poco prima la maestra delle maestre, no? Il fatto di insegnare ad altri insegnanti a come fare una didattica con bambini che hanno esigenze di apprendimento diverse, diciamo, dalla tipicità. Una cosa che tu citi spesso è il valore della fisicità, dell'abbraccio, dello sguardo dell'insegnante, del toccarsi. Come facciamo in questo momento di distanziamento sociale, come l'hanno chiamato, no? Che anche la parola è bruttissima, nel senso che si sta lontani, ma si sta lontani fisicamente, non come persone. Quindi come facciamo a fare, ad esempio, inclusione all'interno della didattica online? Come possiamo lavorare su questi temi? Guarda, io in questi giorni devo dirti che sto quasi cercando di non farmi tirare dentro le discussioni su queste modalità, diciamo così, di io penso che la scuola dovrebbe essere, dovrebbe fare. Perché? Perché sai quella canzone che mi viene quasi da ridere? Gli altri siamo noi, no? Ecco, e questo è un momento in cui ci dovremmo dire. Ma la scuola ti è, se non siamo noi. Cioè, ma il toccare un altro si può fare con la voce. Il toccare un altro si può fare con una distanza che, per esempio, la fisica quantistica, l'entaglement, ci ha insegnato che le particelle informate nello stesso campo, anche portate chilometri di distanza, quando modifichiamo lo spin di rotazione dell'uno modifica l'altra. Cioè, in un certo senso, dobbiamo renderci conto che questa emergenza, se stiamo parlando di questa fase, è un'emergenza che, è vero, ci ha costretto a non andare a scuola, ma con tutti i mezzi che ci sono oggi, una voce attraverso un whatsapp o uno smile o un entrare a casa dei bambini, come la scuola in qualche modo ha avuto la necessità di fare, è un passaggio di significato immenso per i bambini. Perché è la prima volta che i bambini non vanno a scuola, ma che è la scuola ad andare a loro. Se invece, anzi, se però, questo andare a loro significa ripetere quello che era già dannoso in classe, e quindi un modello prestazionale, giudicante, ingozzante, ecco, non è che è cambiato tanto. Quindi le relazioni pregresse contano ancora di più. Ma non solo contano ancora di più, ma questo sguardo a distanza, che è un io-io che è capace di vincere la pandemia, ti riscalda di suo, ma tu devi esserne consapevole che stai andando dai tuoi allievi a dire, ehi ragazzi, buongiorno, oggi ci occupiamo del quadrato di un monomio, ma sai quanta bellezza di infinito c'è in una formula di quadrato di un monomio? Ragioniamola insieme. Questo implica che la conquista del sapere non è un processo in cui io ti insegno, tu apprendi, io verifico che ti giudico, perché la tua vulnerabilità implica che tu non hai ottenuto quello che avresti dovuto. Questo è un processo da giudice, alleato dell'errore, ed è un potere esecutivo, non è un potere educativo. Invece l'educatore entra nella tua casa e ti dice buongiorno Marco, come va stamattina? Senti, come ti è andato questo quadrato del monomio? C'è stato qualche errore che non siamo riusciti a prevedere? Fammi capire che errore è accaduto, perché così lo risolviamo. L'alleanza anche qua. Questo fa il maestro. Questo fa il differenziale di sviluppo, cioè fa la differenza tra ciò che l'altro sa fare da solo e ciò che sa fare se è aiutato. In questo momento io non vi dico leggetevi 300 milioni di libri che ho io qui al mio fianco, vi presto qualcosa che ho riflettuto io su questi milioni di libri perché magari possa aiutare un passo un po' più ampio di quasi rasserenamento rispetto a quello che è il compito del differenziale di sviluppo, cioè di chi insegna. Però questa è una situazione ideale, no? Ci sono anche situazioni in cui questo non è possibile o perché per un gap digitale o per una mancanza di relazione pregressa, quindi è come dire ci ritroviamo adesso a crearci questa relazione. In queste circostanze come si fa a ricreare quello che è un grande vantaggio, una grande pietra della nostra scuola, l'inclusione didattica per i bambini con noi? Posso avere il canale dedicato con l'insegnante di sostegno e questo già è un grande aiuto, un grande sollievo per il bambino, ma poi come faccio a ricreare invece l'imitazione dal compagno, l'apprendimento rispetto all'ambiente della classe? Allora, secondo me dobbiamo anche essere sinceri. Sinceri significa che possiamo pensare che tutto quello che non abbiamo creato prima, in questo momento, di queste cose, no, quello che non abbiamo creato prima, in questo momento, in questo mese, se non siamo riusciti a creare un'alleanza tra i compagni di classe con l'insegnante, a cui basta una telefonata e questo è un mezzo che non si può non avere. Non possiamo pensare a questo mese, per magia, noi attiviamo quello che non abbiamo voluto o saputo guidare veramente con consapevolezza, perché magari se non è accaduto è perché non l'abbiamo saputo fare con consapevolezza. Quindi questo è un tempo in cui è come quando ci siamo dati un pizzicotto, cioè viene a galla, si vede, si sente il dolore, si sente che l'inclusione era probabilmente apparenza, perché laddove invece nella rappresentazione dell'inclusione c'era davvero la percezione dell'alleanza, questo non scompare, non scompare affatto, non è nei mezzi l'inclusione, non solo negli intenti, ma nei comportamenti che si sono proprio seminati all'interno del proprio gruppo classe. Quindi non mi spaventa, se io penso a me come insegnante in università, non mi spaventa che i miei corsisti, i miei studenti di questo semestre non mi abbiano in presenza diretta, mi hanno in presenza mediata come in questo momento noi. Certo non è la stessa cosa, ma non mi è impedito il sorriso, non mi è impedito il contatto attraverso la voce, non mi è impedito dirgli sapete che mi mancate tanto, non mi è impedito. Quindi dove sta l'impedimento? Se non riesco a far venire fuori di me, proprio fuori di me, questo fine, che è qual è il mio scopo? Se il mio scopo sei tu e non è quello di verificare l'errore, ma il mio scopo sei tu, il mio fine sei tu, ecco che allora io posso lavorare proprio sull'imparare a dare messaggi che riesco con la mia personalità a gestire. Se non mi viene da dire mi siete mancati o mi manca, posso dire va bene, adesso correggiamo insieme gli errori ritrovando le strategie migliori e vi aiuto io. Non occorre fare una dichiarazione, perdonami lo dico in maniera scherzosa, d'amore se non ce la si sente di fare, ma di aiuto sì. Perché di aiuto sì? Perché è la nostra funzione. Noi abbiamo la funzione di aiutare contro l'errore. Noi dobbiamo essere alleati del bambino, dell'allievo contro l'errore, non alleati dell'errore contro il bambino. No, la consapevolezza è in questo momento di emergenza in cui guardiamo alle priorità, se appunto non ci fosse stato questo rapporto pregresso, cosa possiamo fare adesso nell'urgenza? Può essere il genitore che supplice? Allora, due cose possiamo fare, almeno due, ma ne possiamo fare migliori. Fare gli adulti, che siamo genitori o che siamo insegnanti. Fare gli adulti, che cosa significa? Che se io come insegnante mi accorgo che in questo momento viene a galla che non l'ho generata sufficientemente forte questa rete di copartecipazione e di inclusione, quello che questa esperienza fa mi fa, esattamente come dicevo prima nell'esperienza dei bambini, capire cosa dovrò fare domani. Domani io dovrò fare in modo che il mio rapporto con i miei allievi non rigeneri più lo stesso tipo di caduta. Quindi, se devo prendere una decisione, se adesso non ho i mezzi, ma adesso io ho la possibilità di riflettere di come non rifarme più un errore in cui non sono il maestro, che dovrei essere. E questo livello di consapevolezza cambia moltissimo di più di qualunque tecnica di apprendimento perfettamente organizzata con tecnologie avanzate che utilizzano... È stato un corso di formazione accelerato questo. Ci siamo. Questa consapevolezza che guida il treno è la certezza che questo tipo di esperienza ha reso migliore in me docente la volontà di attivare tutti quegli interruttori che faranno sì che nell'io-io il significato della mia presenza si senta anche a distanza. E questo è un passaggio immenso. L'altro, e come l'ho detto dell'insegnante, così è del genitore. io se non sono riuscita a trovare gli accordi con i miei figli che consentano di rispettare le loro libertà ma anche le mie, le loro emozioni ma anche le mie, se non sono riuscita a farlo con il mio compagno a fianco, con la mia compagna a fianco, da questo devo trovare un'occasione perché non ricapiti e per non farlo ricapitare devo fare un progetto per me nel futuro. Non so come riuscire a dirvelo meglio. Io faccio l'esempio del foglio piegato a metà che adoperiamo con i bimbi. Se in una parte del foglio si mettono tutte le difficoltà che stanno incontrando, nell'altra parte si mettono tutti i propositi per ridurle passo a passo. Così dovrebbe fare anche un adulto. Io sto facendo così per me. Non è una tecnica di psicologia avanzata ma essenziale. Per esempio ti faccio un esempio ridicolo. Io sono una pessima madre da un punto di vista di prendermi cura del cucinare per mio figlio. Beh, in questi giorni io ho voluto superare questo mio ostacolo perché era il mio modo di dimostrare un amore concreto che sa dire ad un ragazzo di 19 anni tu sei per me l'obiettivo più grande della mia vita e tutto quello che io non sono capace di fare io mi metto alla prova. Quindi con semplicità guardiamoci davvero nei nostri punti di vulnerabilità e prendiamo questa condizione che è una condizione in cui non è che stiamo a casa perché non possiamo uscire stiamo a casa perché non possiamo ammalarci. Ecco è tutto un altro modo di vederlo. Non siamo a casa perché ci sono dei decreti siamo a casa perché così tuteliamo ciascuno di noi e ciascun altro. Questa è una malattia particolare e lavorando a distanza con tutti i miei colleghi universitari che sono nel mondo della sanità quello che mi continuano a dire il respiro la condivisione del respiro pensate nella classe noi condividiamo il respiro dei nostri allievi e loro altrettanto così come condividiamo la trasmissione dei nostri pensieri delle nostre emozioni quindi quanto è coesa una condizione una malattia che colpisce simbolicamente il respiro al punto che l'altro può diventare fattore di rischio per il semplice fatto di essere esistere lì vicino a me a livello proprio simbolico è veramente un imprevisto per l'umanità un imprevisto e anche un segnale di interdipendenza di interdipendenza quello che volevo arrivare con questo lungo sproloquio cioè nessuno di noi è libero dall'altro questo credo che sia il grande insegnamento di questo dall'altro il suo il suo star male e il mio star male sono interconnessi e quando io spiegavo alcuni mesi fa la metafora del respiro a scuola dicendo in fondo se non ho difese immunitarie sufficientemente forti mi potrei ammalare se partecipo di una stessa comunità così è la mente se non ho processi di autoregolazione la tua rabbia mi impatta la tua angoscia mi impatta la tua vulnerabilità mi impatta quando io lo dicevo ero lontanissima dall'immaginare che poteva accadere un evento che ce lo ha reso talmente evidente che più spiegarlo nessuno di noi è non contagiabile nel corpo e nelle funzioni mentali quindi quando noi dobbiamo da adulti comportarci con responsabilità verso chi accompagniamo da genitori e da figli abbiamo il dovere di questa consapevolezza con l'umiltà di fare quello che possiamo ma non continuare a lamentarci senza progettare questa lamentazione non ci sono i mezzi non è adatto questo assolutamente non fa parte del capito ma io se vi leggo le mail che dice ci continuiamo a nascondere basta il re è nudo sai Francesca la storia del re è nudo ecco quel bambino che viene fuori e di fronte al sovrano che tutti quanti acclamano per avere il vestito più bello del re e dice ma che stai dicendo sei completamente nudo basta sono giustificazioni ne abbiamo la necessità perché così in qualche modo giustifichiamo i nostri punti di buio ma se continuiamo a giustificarli i punti di buio non passano mai no sono sono d'accordo e per questo per avallare la tesi che le nostre famiglie sono però famiglie resilienti che in questo momento credo siano le uniche che non si lamentano cercano soluzioni cercano strategie e ti dico e poi ti lascio su questa su questa chiusura dicono fra le prime cose che emergono da questo sondaggio è vorrei cogliere questa opportunità per insegnare a mio figlio qualcosa di nuovo e subito dopo vorrei cogliere questo periodo per imparare io qualcosa di nuovo questo tempo dedicato questo tempo di cura questo mi fa bene sentirlo e ti prego di portare a tutte queste famiglie la mia riconoscenza perché secondo il mio parere proprio conta per quello che può contare il parere di una persona questo è il momento della testimonianza quindi che le famiglie manifestino attraverso la loro testimonianza soprattutto le famiglie che sono passate nel dolore dei propri figli e di chi amano così forte e un messaggio che veramente dice troviamo quello che può modificare in meglio una condizione così di di debolezza per tutti ecco questo secondo me è il miglior incoraggiamento io a io ecco proprio madre a madre padre a padre io a io quindi non vorrei dirvelo a parole non mi viene talmente profondo che non mi viene quasi fuori perché è è questo che dovete fare fare capire ai genitori probabilmente che stanno più in superficie quanto sia invece nel profondo del nostro vivere del nostro vivere l'importanza di trasformare ogni esperienza in un progetto migliore bellissimo beh allora mi sembra di capire che siamo perlomeno sulla buona strada il consiglio di di lettura non so se si vede adesso perché qui abbiamo tutti gli schermi sfocati è il libro l'ultimo libro di Daniela le cinque lezioni leggere sull'emozione di apprendere e questo Daniela secondo me è un libro utile anche al genitore quindi non credo che tu l'abbia pensato solo per per l'insegnante guarda devo dirti non l'ho proprio pensato nel senso che sono cinque lezioni sbobinate dall'editore perché erano lezioni che avevano avuto delle conferenze che avevano avuto una grandissima richiesta da parte degli utenti quindi lui ha detto invece di raccontarle soltanto per chi era presente mettiamole per iscrivervi mettiamole su carta quindi è un linguaggio che è proprio un linguaggio sbobinato quindi io mi sono quasi risentita di questa operazione lo scrivi lo scrivi anche nella premessa il rigore delle fonti scientifici sì mi sono quasi risentita ma poi ho pensato che probabilmente è proprio questo suo linguaggio è perdonabile perché l'intenzione è quella di poter essere usufruibile e immediatamente arrivare a dire senza troppi filtri l'essenziale ed è così Daniela noi ti ringraziamo per questo tempo prezioso a voi a voi favoriamo di risentirti in una fase evolutiva in cui raccontiamo cosa abbiamo imparato e come siamo evoluti bellissimo questo progetto Francesca bellissimo ciao ciao a tutti grandi ciao ciao ciao